Benvenuti! Oggi vedremo due espressioni apparentemente molto simili, ma dal significato profondamente differente. L'espressione abbraccio significa in modo approssimativo. Se si riferisce a come si parla o si recita, allora vuol dire improvvisando. L'espressione abbraccetto, invece, rappresenta il modo in cui due o più persone camminano tenendosi l'una sotto braccio all'altra. È un segno di grande familiarità e intimità. In senso figurato, andare abbraccetto con qualcuno vuol dire avere relazioni, interessi comuni, collaborare con questa persona. Per scaricare una spiegazione relativa a questo argomento, come a tanti altri, entra nella nostra scuola nella città virtuale di Valle delle Radici e vai nell'aula numero 3 relativa alle schede tecniche. Ti aspettiamo!